D'Artagnan E' un moschettiere Sono sette, noi siamo tre A me pare che siamo quattro Vuoi ucciderlo, per favore? Non lo sopporto Milady, ci sono stati imprevisti Tutti morti e sepolti Volete dunque che dichiari guerra ai protestanti e all'Inghilterra Per chi lavorate, madame? Per il diavolo, probabilmente Per chi lavorate Per chi lavorare Per chi lavorare Per chi lavorare